Ivan Speranza, ottavo anno con la maglia del Teramo, ne hai viste tante di squadre bianco-rosse, ogni anno si riparte. Quest'anno con lo stesso obiettivo dichiarato almeno dell'anno scorso, ma che squadra è per te che hai un visuale un po' più generale rispetto agli altri? Rispetto agli ultimi anni è una squadra sempre giovane, però si sta creando un bel entusiasmo. Abbiamo creato già un bel gruppo e ovviamente al di là del gruppo, lì nello spogliatore, poi il gruppo dobbiamo esserlo in campo. Darci una mano tra di noi, aiutarci e tutto, però si sta creando una bella situazione. L'anno scorso la Salvezzi è arrivata fuori dal campo con un allenatore che avevate all'inizio e che avete ritrovato alla fine e che ritrovate quest'anno. Come l'hai ritrovato tu Zichella? Il mister l'abbiamo conosciuto all'inizio in una veste diversa, ovviamente come allenatore in seconda, poi è ritornato come primo allenatore. L'abbiamo vissuto una settimana, ma già sapevamo un pochettino il suo pensiero. Ovviamente l'abbiamo trovato bello carico, perché comunque si gioca una grande chance anche lui. E quindi è veramente carico. Stiamo lavorando bene, stiamo seguendo, stiamo facendo quello che comunque ci dice. E dobbiamo farlo, perché comunque ci aiuta e ci fa star bene. Ecco, tu sei il capitano di questa squadra. Ovviamente con te negli anni scorsi sono stati grandi protagonisti, gente come Caidi e come Stefano Amadio, che adesso sta vivendo una situazione non facile. Ecco, tu che lo conosci da tantissimo tempo, come lo vedi? Ma dispiace, perché comunque Stefano per me, nel suo ruolo, è uno dei migliori giocatori che c'è nella Serie C. Vederlo lì comunque ai margini della squadra dispiace, perché comunque al di là del rapporto calcistico abbiamo creato un rapporto di amicizia molto profonda. Quindi dispiace vederlo lì e magari spero che un domani può far parte della nostra squadra. Adesso c'è la trasferta di Rieti di Coppa Italia, però è chiaro che tutta la concentrazione vostra sia per l'inizio del campionato. Che è slittato? Questo è un bene o un male? Ma può essere anche un bene, perché abbiamo più tempo per lavorare, più tempo per trovare i nostri meccanismi. Adesso noi dobbiamo pensare comunque alla partita di Coppa, fare bene la partita di Rieti, dare continuità e cercare la vittoria che dà sicuramente morale al nostro gruppo. Poi magari pensiamo al campionato, però sicuramente è un periodo in cui non ci si capisce tanto le cose, quindi è un po' un macello. Però noi pensiamo comunque ad allenarci e ripeto a trovare i meccanismi giusti per noi. Sono arrivati dei giovani, è rimasto Altobelli, è rimasto anche Icaidi, ma speranza di sedersi in panchina proprio non ne ha voglia. No, assolutamente no. Quello fa parte della 12 del mister. Io sicuramente sono un professionista, cerco di fare il massimo e farmi trovare sempre bene. Poi l'età avanza, quindi devo stare per forza bene, se no mi siedo, quindi cerco di dare sempre il massimo in ogni allenamento e poi sta sempre al mister a decidere. Grazie. Grazie.